Dritti al punto. Questo connettore USB-C magnetico Magatame mi è piaciuto un sacco, è di buona fattura e soprattutto nella parte che conta, cioè l'innesto magnetico, funziona davvero molto bene, si aggancia facilmente e in maniera decisa. A livello di performance è in grado di trasportare 240 watt e 20 gigabit, direi più che sufficienti per la grande maggioranza dei casi. Non so se in generale sia davvero una necessità avere un connettore magnetico di questo tipo, ma devo dire che è un pochino migliore l'esperienza dell'USB-C e inoltre un caso in cui potrebbe essere salvavita mi è venuto in mente. Se per esempio pensiamo di lasciare i nostri dispositivi in una condizione in cui magari c'è qualche bambino o un animale che possono incespicare nel cavo, in una situazione così, semplicemente tirandolo come vedete il dispositivo rimane dov'è e il cavo si sgancia. Vedete anche quanto poi è facile ed efficace il fatto di rimetterlo a posto. Direi quindi bello, utile, a me è piaciuto un sacco.